Dopo i controlli degli agenti della Digo sta a rimanere fuori dall'inchiesta che per tre mesi ha monitorato il comportamento di tutti e 40 i consiglieri comunali, sono stati un pugno di esponenti del civico consesso. Escluso il presidente del Consiglio, Emilia Barrile, si tratta di Claudio Cardile, Simona Contestabile, Daniela Faranda, Lucy Fenec, Franco Mondello, Pierluigi Parisi, Ivana Ricitano, Mario Rizzo, Antonella Russo e Gino Sturniolo. Tutti sono rientrati in quei range stabiliti dalla Procura che fanno escludere la contestazione dei reati di truffa, abuso e falso. Tra loro, secondo quanto emerge dai controlli della Digos, nei tre mesi presi in esame ci sono consiglieri che hanno svolto appieno il proprio dovere. Tra i corretti si possono certamente annoverare Ivana Ricitano e Daniela Faranda, due consiglieri comunali che non hanno infranto i paletti stabiliti dalla Procura più degli altri colleghi che, come loro, sono rimasti fuori dall'inchiesta. Solo in un'occasione Ivana Ricitano avrebbe partecipato in maniera fittizia a una commissione, nessun gettone è stato accaparrato in maniera illecita da Daniela Faranda, a incuriosire soprattutto il fatto che c'è un abisso politico tra le due, l'una di destra e l'altra di estrema sinistra.